Upas, spoiler al 3 maggio, rendo accusato, Guido affascinato da Claudia. Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 29 aprile al 3 maggio, Damiano riceverà una pesante accusa e dovrà attivarsi per dimostrare la propria innocenza. Nunzio crederà che nella polizia potrebbe esserci una talpa. Guido invece incontrerà una sua vecchia amica di nome Claudia e non rimarrà indifferente di fronte al suo fascino. Inoltre il rapporto tra Silvia e Michele finirà per mettere in crisi Giancarlo, mentre Nico tornerà dal viaggio con Valeria e troverà Jimmy in compagnia di Manuela. Ida e Roberto hanno una accesa discussione. Nunzio sarà sempre più in ansia in quanto le condizioni di salute di Diana non mostreranno alcun miglioramento. Il ragazzo sarà pure infastidito da Schipa, che secondo lui non si è dimostrato diligente nel portare avanti le indagini sull'incidente all'architetto. Intanto Ida e Roberto avranno una accesa discussione e questo potrebbe minare il precario equilibrio sul quale retto l'accordo riguardante il piccolo Tommaso. Marina pur di non fare aggravare la situazione si rivolgerà a Raffaele, ma un imprevisto rischierà di mettere in pericolo i piani dei coniugi ferri. Nel frattempo Damiano riceverà una grave accusa e si dovrà impegnare per dimostrare la propria innocenza. Guido invece incontrerà dopo tanto tempo una sua vecchia conoscenza di nome Claudia. Ornella tranquillizza Viola che Damiano chiarirà la sua innocenza. Marina sarà pronta a partire per il viaggio organizzato, ma Roberto non sembrerà propenso a seguire le promesse che ha fatto. Intanto Giulia cercherà di rincuorare Rosa, con Ornella che tranquillizzerà Viola circa il fatto che le indagini chiariranno l'innocenza di Damiano. Per quest'ultimo la situazione non accennerà a migliorare e tutti i familiari saranno preoccupati per lui. Nunzio crederà che dietro le accuse mosse verso Renda ci possa essere una talpa, mentre Peccariello prenderà una decisione in attesa che la porterà ad avere un poco di sconforto. Nel frattempo Mariella sarà gelosa dopo che Guido ha visto la sua amica e questo aspetto rischierà di accentuare le tensioni tra i due. In tutto questo Nico tornerà in città dopo la vacanza con Valeria e troverà Jimmy insieme a Manuela, la quale chiederà all'avvocato un consiglio in merito al suo progetto imprenditoriale. Intanto il rapporto sempre più stretto tra Silvia e Michele finirà per mettere in crisi Giancarlo. Riepilogo delle puntate precedenti Negli episodi in onda la scorsa settimana, Nico si è mostrato contento della sua relazione con Valeria al contrario di Manuela che sta soffrendo molto e non è riuscita a dimenticare il passato. Inoltre Giancarlo ha chiesto a Silvia di sposarlo, mentre Eduardo si è mostrato disponibile ad entrare nel programma di protezione e Clara l'ha sorpreso facendogli una proposta di matrimonio. Mariella invece ha iniziato a corteggiare Palladini, nella speranza che Guido potesse in qualche modo ingelosirsi.